ciao ragazzi ben ritornati in questo nuovo video io sono fabrizio e prima di iniziare vorrei ringraziare tutti voi per essere intervenuti sul video in cui parlo di racecraft online voglio ringraziare in particolare simone buttafuoco che mi ha dato spunto per una bella riflessione e per poter fare una disamina un pelino più approfondita di quelle che sono le motivazioni del perché automobilista 2 ha i server abbandonati cioè non se lo caga nessuno e in più vorrei ringraziare leonardo gizzi che mi ha segnalato un altro servizio il wss che è il world sim series che però è dedicato ad assetto corsa competizione e a assetto corsa 1 un po come fa lfm con acc e con r factor 2 dopodiché vi segnalo che abbiamo lanciato un campionato su assetto corsa competizione si corre l'otto il 15 e il 22 di settembre troverete tutti i dettagli sul nostro canale di discord vi lascio qui l'invito ovviamente perché questo invito così potete raggiungerci e potete venire a correre con noi facciamo delle serate tra amici e così ci ritroviamo ci divertiamo mamma mia che ha fatto silvaggio sono nato e vivo per vedere queste cose qua incredibile vediamo al dunque ragazzi parliamo di automobilista 2 analizziamo poi insieme perché allora si server sono così vuoti automobilista 2 non mi voglio attardare tanto su quelle che sono le mie opinioni personali in merito ad automobilista 2 è il fratello gemello di project car 2 per quanto riguarda l'aspetto grafico perché ovviamente ne eredita il motore grafico madness e quindi proprio tutta la struttura la carcassa grafica il sound è stato migliorato secondo il mio modestissimo parere c'è una cura del dettaglio sia grafico che audio che pazzesco mi piace tantissimo il fatto che abbiano ripreso quelle features molto interessanti anche se ne manca una quella della possibilità di fare un campionato gestito online che era veramente una figata pazzesca secondo secondo me altre cose che mi piacciono tanto sono sicuramente la configurabilità sia di triplo screen che di realtà virtuale molto semplice facile e con una fluidità pazzesca questo è basato dal fatto che comunque è un motore grafico che è stato proprio ottimizzato per prima project cars 2 e poi ovviamente automobilista 2 mi piace tanto l'immediatezza che dà automobilista 2 di potersi ritrovare in pista con degli amici ma perché no anche creare dei campionati leggermente più impegnativi proprio con le lobby pubbliche ed è anche a disposizione un tool per creare dei server dedicati proprio su macchine esterne quindi molto interessante anche se diventa un po più complicata la configurazione mi piace anche la parte diciamo del single player che comunque sempre per una features interessante da avere mi piace anche la IA adattiva perché no mi piace il force feedback che è molto elaborato e anche la fisica in generale anche se ci sono alcune auto che diciamo non sono proprio vicine alla realtà che però Reiza sviluppatori all'ascolto della comunità rilasceranno la patch 1.5 con la nuova fisica che a quanto pare terrà in conto la termodinamica dei pneumatici e anche la deformazione delle carcasse dei pneumatici stessi quindi molto interessante ho avuto modo di poter provare questa nuova fisica che è un po diciamo in fase embrionale perché è praticamente quasi totalmente rivista e devo dire la verità che la prima impressione è davvero molto molto interessante una cosa che mi piace particolarmente di Automobilista 2 sono sicuramente la qualità e la quantità dei contenuti stiamo parlando di 50 e passa circuiti laser scan stiamo parlando di non so quante categorie di auto camion gt formule dal 1900 al 2023 stiamo parlando della stock car un campionato brasiliano famosissimo bellissimo stiamo parlando di gt 1 2 3 4 5 stiamo parlando di porsche cap stiamo parlando di fiat 1 ragazzi da 190 cavalli stiamo parlando di un sacco di contenuti una cosa che mi colpisce però particolarmente di questo simulatore e che penso va dal di là di tutte quelle che sono le caratteristiche e le qualità che può offrire e l'impressione che dà a tutte le persone che non l'hanno mai provato fino adesso tre persone nelle ultime 48 ore hanno provato insieme a me Automobilista 2 con una combo classica che consiglio a tutti voi scaricate la demo tanto è gratuito stock car 2022 2023 prendete un circuito classico brasiliano o quello che vi va e provatele la sensazione è totalmente positiva da tutti quanti già questo basterebbe per dire cavolo che gran simulatore bene allora cosa manca però e mancano delle cose che ad oggi sono importanti oggi il simulatore deve essere studiato in direzione esports anche se diciamo i diretti concorrenti di automobilista 2 non è che sono super diciamo avanti rispetto a questo discorso qua ma questo non impedisce pur non essendo particolarmente ben gestito che i server non siano pieni quindi un sistema di rating e di competition è di fondamentale importanza oggi proprio per evitare quelle problematiche o comunque per cercare di tagliare un po le gambe a quelle persone che purtroppo non sanno stare in pista o semplicemente sono irrispettose ormai i piloti che vanno in pista e vogliono correre tranquillamente ci fanno casa a queste cose quindi questo può essere un freno nei confronti di un automobilista 2 che ne è sprovvisto certo è anche vero che adesso abbiamo ricecraft online l'abbiamo scoperto e probabilmente potrebbe essere sfruttato proprio per evitare questo tipo di seccatura e avere questo sistema che possa aiutare a ripopolare i server di automobilista 2 un'altra cosa che potrebbe frenare l'avanzata diciamo di automobilista 2 sul panorama del della simulazione è probabilmente la mancanza di marketing e qui raggiungo totalmente il pensiero di simone buttafuoco si sente parlare praticamente zero di automobilista 2 aris di assetto forza competizione ragazzi ha fatto un tam tam mediatico pazzesco tramite il suo canale 50.000 iscritti più tutti quelli che cercano sul tubo assetto forza competizione ogni patch che è uscita era lì a spiegare eccetera c'è un business dietro che viene alimentato da una pubblicità un marketing ben strutturato pensato infatti intorno ad assetto forza competizione si è creato proprio una un business anche di videocorsi setup eccetera proprio lanciato proprio da assetto forza competizione adesso si trova per tutti i simulatori f1 si trova per r factor 2 eccetera ma assetto forza competizione siccome ha avuto un livello di hype di attesa talmente alto che tutti eravamo lì poi ovviamente stiamo parlando di assetto forza competizione che offre solo il campionato black paint e le gt3 che quando aggiornano qualcosa sono gt3 o a massimo gt4 m2 cioè è un gioco che i contenuti quelli sono e quelli rimangono stiamo parlando di 15 circuiti forse qua parliamo di 50 layout una marea di contenuti e assetto forza competizione manco c'ha il rating c'ha un sa ok che ti blocca soltanto l'ingresso ai server non c'è una competition vera e proprio capito voglio dire ecco perché vi dico pur essendo limitati i rating e le competition voglio dire non ha impedito agli altri di voglio dire avere più successo rispetto ad automobilista 2 iRacing iRacing ragazzi se fate il giro sul web ogni tanto vi compare iRacing rinnovo abbonamento rinnovo licenza sul tubo ce ne sono tanti poi ragazzi bisogna essere intelligenti se tu fai le 24 ore per 2-3 anni su iRacing e guardano 10.000 persone questo evento soprattutto nel periodo un po' bruttino che abbiamo passato quando si guardavano le gare online perché fisicamente non si poteva andare in pista iRacing R Factor 2 assetto forza competizione automobilista arriva il 31 marzo 2020 in piena pandemia e invece di tartassare è uscito automobilista 2 niente cioè è allo stesso livello di pista motorsport io vi sto dicendo sto titolo e mi dite pista motorsport sì è un simulatore di guida che deve uscire non si sa quando pista motorsport uguale a automobilista 2 io ne parlo con alcuni non lo so infatti molti non sanno neanche che cos'è e com'è fatto automobilista 2 quindi analizzando la fine ci sono queste ci sono queste motivazioni ma potrebbe essere anche semplicemente che la gente non ha voglia di cambiare simulatore può essere può darsi che la gente è rimasta ferma c'è solo il campionato brasiliano infatti se tu prendi la copertina di steam ci sono le stock car che sono bellissime e brasiliane può semplicemente essere anche il fatto che non lo conoscono tutti può darsi che ci sia gente prevenuta che pensa che sia ancora come project cars 2 concludendo ragazzi secondo me automobilista 2 merita attenzione da parte vostra vi consiglio di scaricarlo testarlo gratuitamente con la demo quello che vi daranno da testare sono sicuro che vi conquisterà c'è modo veramente di fare delle serate veramente fantastiche tra amici perché è veramente immediato molto divertente spero che questo video vi sia piaciuto ditemi che cosa ne pensate nei commenti voi di automobilista 2 e come al solito iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivate la campanellina noi ci vediamo prestissimo da fabris è tutto un abbraccio ciao